Fin dai nostri primi passi abbiamo sentito il bisogno di muoverci. È questo che ci spinge a evolvere e a trovare le soluzioni giuste per te. Per farti arrivare più lontano, verso nuovi orizzonti della mobilità. Senza dover mai scegliere tra stile e sostenibilità. Siamo qui per farti arrivare a destinazione. Sali a bordo di Kona Hybrid. Solo a maggio fino a 6.000 euro di vantaggi grazie agli eco-incentivi Hyundai, con rotamazione e finanziamento Hyundai Plus. Grazie a tutti.